Herbs? Roots? Triss ha tornato a cura? Herb Rush, solo ha mai conosciuto Triss per usare uno come questo Amulet sono emanati magica, deve essere Triss, era allergica alle pozioni Fa la guaritrice C'è una sficcia a casa, però mi sembra un po' un po' un maniaco Sficciaglie dentro al bagno, vabbè, da qua c'è uno, la stessa... Triss, non aveva mai conosciuto di lasciarli sull'interno Cos'è quello? C'è una ricerca di ricordazione, che si tratta a perché se realmente semplicemente bevendo un po d'acqua as me si ripristina sto buff di cura automatica dovesse aumentare la vitalità non guardare noi i i i i i i i i Eccolo Mertà. E ora la sparisce. Ah, i bambini bambini che trancano qui. Sembra che i miei figli bambini in questo giro. l'angolo come vedo me lo blocca tutti passano i soldi 12 years later veccala erano anche negati e non era tipo una cosa particolare ovviamente erano il ratto però è un'altra faccenda perchè i ratti e i mendicanti hanno spesso lo stesso simbolo però spicciate cazzo un cambio di mano un'altra volta guarda hanno fatto un cambio di mano guarda 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 open up where are you and what you take a you know heard this place was a meeting and right don't know the past don't know the past you're my right right after I'm a bear Certo come no Ma te li posso ammazzare anche a barinude Devo aumentare sta stare Della persuasione Qual è Aximo? Vabbè 50 corone L'ho più alto So guarda chi è Preparatevi Preparatevi alla mia editazione La mia editazione più grande del mondo Ciao Ciao Che cazzo vuoi? Ecco diciamolo da subito Che cazzo vuoi? Cosa diavolo Che cazzo vuoi? 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 Ho avuto plani Ho mai pensato di scegliere una sede Nella città? La città è una truppa di pappetta Con la hierarca della città dell'Eternal Fire come il suo pappatore Io sarei d'accordo su quello che dice Però dipende da come vuoi gestificare Perché in Red dei Mercanti non è uno Credo che sono di troppo Eppure è molto giovane Sembra molto giovane in realtà È perché negli atti videogiochi la grafica era diversa Qua invece è totalmente cambiata Deserbo la mia arma Ci strappo Una trattora come la signorina È bella sta cosa Io credo che sei un'altra cosa importante La cosa importante non fa giustizia Sto cercando di qualcuno Più precisamente Una nuova moglie che è come una dottora A me 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 Che bella domanda Cazzo Io mi devo comprare l'armatura nuova sul Nito del corvo Merda Vabbè Non Neanche un No Commento Una parola Cosa Un erborista Hai Hai Sì, un sacco pieno di magica e sono arrivati... Non ho capito che non ho avuto la scuola. Ho lasciato il sacco in acqua, ho dovuto! Ho bisogno di questo pacchetto, Clip. Deve essere sul canale. Hai aspettato a te pagare? Posso fare questo. C'è un sacco? A vicino al crano. Non ho aspettato di un'escrizione. Voglio riuscire a sfruttare... Stop! Senti? Il fulgno non si è riuscita fino a che ho iniziato a prendere le scuole. Ogni uomo ha i suoi spazi sensibili. Si è vero che era davvero ticclico. Ho messo la batola sul cuore e ho messo una mugga. Siamo forti questa volta, ma... Cuidate di te stesso. Dov'è la botola? Ah, questa è la botola. Perchè io le scalette non le faccio. Cazzo stai facendo? Oddio! Ma è bianco! Ma è bianco questo Drawner. Ma che cazzo? Ma com'è morto poi? Stela danzante superiore. E poi me non uso mai il combattimento. Cazzo stai facendo. Cazzo stai facendo. Che hai visto? Era bianco. Era bianco. Sono diversi. In base forse all'acqua dove muore il corpo? Non c'ho la stela danzante? Ah. That's... Actually a bet. È veramente una brutta cosa. Che erano la stela danzante. La torcia. È la torcia. È un'armatura che mi sa che è tipo potentissima. Però è molto pesante. È un'armatura che mi sa che è tipo potentissima. Infatti. Questa 27. Questa 37. Experimentate. Madre de dio. Questa? No. Ma è la corazza a sto punto. Ah no. Posso fare il decotto di qualcosa. Vedrò. Forse... No. Non posso farlo. Non posso farlo, sir. Eh, vabbè. È un po' eccessivo. Una leva, dici, eh? Eh. Ok. Non la trovo. Ah, eccola là. Una leva. Madonna. Viene a me lo canale. Un pulito. che sia normale Che bello il vestito che c'ha Il vestito Ah ok Idiota Ok Quanto dura? Volevo bevermi la pozione orca assassina ma non so quanto dura Ne vale la pena di berla adesso Due minuti Madonna me l'ha triplicata praticamente la durata Vabbè ma che cazzo sta succedendo sotto tutti i cosi adesso? Dove c'è altro? Ma Non dovrebbe esserci un gabbiano Va bene Mi piuttosto sicuro che non dovrebbe esserci un gabbiano lì sotto Ma c'è stanno altre ceste Ma se non puoi combattere sott'acqua che cazzo di senso c'ha aumentare? A parte queste cose qua per esplorare tipo sott'acqua Cosa ti può portare a fare queste cose? Mamma quant'è che non nuoto? Mamma mia Ma che non ci rifrà? Guarda che non c'ho il fisico Andando al mare Ottialmente Sto troppo fuori forma Andando al mare Mi piacerebbe Quest'anno infatti era uno dei quegli anni in cui avevo detto Magari ci provo Eccolo là No Quello che cazzo è Buon'erba Spini cervino? Sì Wow È l'unica pianta acquatica Infelizmente Guarda che c'è il sacco perduto Ah aspetta l'avevo trovato Sono scemo Eccolo là Non so come stia nuotando Con tutta la roba metallica Che ha addosso Mamma mia Ma sto giallo Canarino che abbiamo addosso Ok Ok sembra che sia nel tuo elemento ancora conosci i miei elementi? come usco? comeci, 6 mesi non è così lungo, non è come se non sono senile ma tu hai una storia di amnesia ho recuperato la mia ricerca completamente bene, questo dovrebbe impedire la gente di prendere davanti di te non ne prendere davanti di me ho, per esempio non ho mai intimo dobbiamo in tempo Sei tu che devi accelerare tesoro Oddio no c'è una scena in cui lei si incazza se gli ho rubato la rosa del ricordo Che pare Ma sembra un mastro rosso Non ho aspettato a te portare la compagno Non ho aspettato a te portare la compagno C'è un problema? Sono l'Eternale, insieme ho aspettato a te risolvere le cose troppo più veloce Ma io preferisco che tu... Triss, tu e Brandon qui Abbiamo accettato a una copia piena Brandon & Co è una scena seriosa Tu sei un mercato D'accordo Half up front You're asking I'm a witcher Gotta admit I've met my sh- We need to place these crystals around the greenery After you Ready? Not yet Mamma mia Mamma mia Scusi Non c'è un problema Mi sembra più bello Non mi piace 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 Non è troppo fat Non è possibile Vabbè, mettiamola pure là, migliore di sì. Vediamo non devo azzeccare i punti? Cosa mi dice che mi aiuto a salvare? Io vado per lei, non mi ne frega niente cazzo, vado per lei. Vado per lei, non mi ne frega niente. Interessante metodo, non ho mai avuto molto successo con i rati. Un'altra volta, ho vado con un fork in complete darkness, cercando di mostrare i miei senti. Un'amplice, un'amplice. Il problema era che nessuno lo vede. Come potremmo in la scura? Quindi, cosa pensi? Ratt catcher? È un'unico per farlo da essere un'advisor di Temeria, King. I'm just glad to see you safe and sound Reconciled? Knew a man once who reacted to everything Especially at... Healthy attitude, must have... Came a day he lost both his legs in battle He shrugged I understand him perfectly I know, thing is he was lying to himself I think he just didn't We all lie sometimes Sometimes you have to escape Just to forget So, tell... How do you know I found her? You didn't answer my quiz Don't know yet Asking about anything specific Never mind Mi sa che mi sono bruciato le carte Well, well The job's done Geralt, those are... I know who they are, Tris My friends begged me to notify them if I encounter them It's a trap, Geralt This stank from the stomach Let's agree, your friends were never here Sì, non ti chiedi i termini. Sì, stai fuori. Siamo qui per la duccia. Siamo inseparabile, vedi? Gerold. Se ti dice così. Allora, abbiamo parlato. Do what you gotta. Non ho già già detto di questo, figlio. Come ho io. Ne... Stai cercando una bruciazione? Io ti uccolo! Non t'ha t'ha toccato la Mako con un dito. Di nobis è stata glitcha! Non mi uccidete! Buongiorno, non! Mi uccidete! Mi uccidete! Mi dovrei uccidete! Ora, salta! Grazie, Geralt. Non ho bisogno. Sì, ho pensato... C'è un oniromancer in la città. Non ho mai trattato. Karine ha stato molto effettiva. Lei ha fatto un lavoro vicino. Non veniva con me? Ho alcune cose da guardare. Un altro rosso? Non esattamente. Non... No, dai, no! No, dai! Cazzo! No, dai, no! No, dai, no! No, dai, no! No, dai. No, dai, no! Non ho bisogno! THEY ARE CONFIG picture-upon!